salve a tutti questa è la recensione della mia nuova smart tv lg in dotazione si trova il telecomando con due batterie mini stilo il bellissimo piedistallo che ancora no imbacchettato e di pura plastica con un sotto un lamierino bello un bel design assomigli proprio quello dei monitor la certificazione dell'etichetta energetica come vedete è di classe e consuma 22 kilowatt ora poi una certificazione del wifi wifi bluetooth infatti qua ci sono le bande e le frequenze di megahertz poi un libretto rapido dove vi spiega come montare la tv ingressi e quant'altro un libretto per il telecomando che multilingue poi un manuale per la messa in sicurezza della della tv sempre multilingue poi la un libretto di garanzia mutine sull'adattatore dell'alimentatore della tv infatti ci sono anche molti modelli e anche molte specifiche e infine i codici qr per rilevare qual è il modello che a che avete partiamo dal design allora tv ha un bel design come vedete sembra una di quelle smart tv da 40 50 pollici proprio bella veramente a me piace perché da lo schermo opaco più le le cornici abbastanza sottili come vedete poi non è nemmeno troppo spessa è giusta come come spessore cioè forse un pochettino spessa ma ci sta per una smart tv da 27 28 pollici anche al design dietro non è male mandano delle fessure d'aria ma è questa è una cosa che leggi fa con molte smart tv e che dire anche la staffa resa quindi 75 per 75 mm dimensioni notte della smart tv sono 61,2 cm di larghezza poi 42 cm e 3 di altezza incluso il piedistallo senza piedistallo sono 36,8 cm come al momento e poi uno spessore di 7,4 cm invece col piedistallo si va a buttare a 15 cm e 2 di dimensioni passiamo alla qualità dei materiali la qualità di questa smart tv è abbastanza buona l'ombre è abbastanza robusta sia dietro che l'anni davanti come sentite è una plastica rigida poi è anche abbastanza robusta non fa più scricchioli e come i modelli precedenti delle smart tv di questa dimensione invece abbiamo un tastino che solamente per accensione e spegnimento del diamo sulla connettività e ingressi allora alimentazione ingresso per il la connessione ethernet hdmi con il supporto rc secondo hdmi uscita ottica digitale dell'audio cavo via satellite e cavo via digitale terrestre di qui abbiamo lateralmente abbiamo la usb e la common interface quindi solo due cose manca il jack delle cuffie inoltre la tv ha il wifi di quinta generazione dual band e inoltre anche il bluetooth 5 sullo schermo allora è un 27 pollici di diagonale risoluzione full hd 1080 per 1920 tecnologia dello schermo in ips con finitura opaca infatti il ps a questa cosa del dell'essere opaco e non lucido infatti ha lo stesso display come i monitor per computer gli stessi della gamma e l'opaco fa sì che la vista non si affatica nemmeno stando molte ore davanti allo schermo due altopallanti una destra e una sinistra due per 5 watt l'uno che diventano 10 watt e a questo punto si sente bene finalmente un audio accettabile su una tv di queste dimensioni si sentono un pochino i bassi ma i bassi sono a ribombo perché come vedete si vede benissimo i colori sono perfetti i neri si vedono ci sono però in alcuni film diventano grigi come vedete se ne la mettiamo così non si vede molto signora per esempio non la vedo perché si vede la finitura opaca ma diciamo che fino a un tot di gradazione di angolo della visuale la tv si vede vedete fino a qui si vede bene però è la finitura opaca che fa la differenza infatti soltanto nei canali si vede più o meno bene si vede bene in certi canali che non sono in alta risoluzione ovviamente non si vedono un granché ci sono i canali digitale terrestre come vedete nel cambio canale è veloce più o meno prende tutti i canali digitale terrestre ottimo senza dubbio ogni canale ci indica qui la potenza del segnale del canale e questa è un'altra cosa che mi piace dlg come vedete tutti i canali ci sono e si vedono bene a questo è un test che di solito il mio preferito ad esempio come vedete sempre nella qualità video mi 1080 per 60 frame per secondo questo è un il mio video delle migliori lavatrici del 2023 presso sul mio canale lo vedrete nel come le migliori lavatrici nel 23 e l'ho fatto infatti io un video in 4k se vedete il 4k che la tv lo sta seguendo in 1080p la i colori il colore blu è abbastanza bene quindi come vedete il esempio lavatrice si si vede bene anche a una buona attesa sentire all'audio quindi l'audio è già a 15 20 di volume già si sente molto molto bene che dire l'audio si sente bene perché vedete la musica si sente molto luminosità contrasto e nitidezza molto buono io sono abbastanza soddisfatto come avete visto i colori i colori sono benissimo in uno schermo ips fa tanta bella figura rispetto a uno schermo led normale i neri si vedono per esempio nei film di netflix oppure in altre piattaforme l'ips con la finitura opaca si vede quel grigio oppure in certe scene dei film o dei video che si vede il nero che diventa il grigio un po grigio è normale benissimo anche l'hdmi che ho provato con tramite una la mia xbox bene si vede si vede abbastanza bene anche con l'ingresso hdmi e i giochi vari questa è la home di della della funzione smart della mia nuova tv e come vedete qui sotto sono state riorganizzate le al app come vedete quindi vi faccio vedere come scuole scuole abbastanza velocemente anche sopra vedete non si imballa più invece i precedenti modelli o gli altri modelli in commercio possiamo modificare l'elenco l'app noi possiamo spostare possiamo noi spostare le app dove vogliamo basta premendolo con ok e poi spostarlo a questo punto possiamo anche noi eliminare l'app la possiamo disinstallare qui abbiamo quindi in prima in prima app e l'app store di lg in cui ci sono tutte le applicazioni tra i quali quelli che già tutti conosciamo già e anche altri tipi di applicazioni come vedete qui ci sono tanti ci sono le app popolari c'è youtube c'è netflix c'è prime c'è paramount c'è chill poi possiamo andare per esempio su intrattenimento è un po lenta leggermente a caricare ad esempio c'è spotify fluto tv discovery e tanti altri tantissime altre applicazioni tante veramente per film tv ce ne sono veramente tanti anche giochini ci sono i giochi da giocare o tramite telecomando o tramite magari un joypad come vedete qui giochi ce ne sono tanti poi abbiamo le opzioni dell'app store ad esempio l'aggiornamento applicazioni che vi fa vedere quali app sono da aggiornare a questo punto sono già aggiornate poi la gestione delle abbiamo inoltre lg channel che è un diciamo una nuova piattaforma di canali gratuiti un po stile come samsung samsung perché samsung ha già questa piattaforma che ci sono dei canali gratuiti lg ha lanciato fuori con la versione webos 22 questa la più o meno è molto molto simile infatti anche i cani i canali rispetto anche a samsung c'è rakuten sono molto simili poi ci sono c'è calcio c'è fifa ci sono tanti altri di di canali poi abbiamo il browser internet della della smart tv come vedete rispetto alle alle versioni precedenti delle 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 smart tv hanno un pochettino cambiato il design qui abbiamo il puntatore che con il telecomando fa si fa una fatica da morire qui invece ci abbiamo la tastiera che sembra abbastanza intuitiva molto veloce anche da digitale qui ad esempio abbiamo il menu del browser ad esempio c'è il blocco annuncio automatico perché se noi non blocchiamo gli annunci pubblicitari di alcuni siti web la televisione potrebbe rallentare poi abbiamo la visuale della tv cronologia preferiti impostazioni infatti se andiamo nelle impostazioni abbiamo tante nuove impostazioni motore di ricerca possiamo uscire tra google yahoo o bing però ad esempio l'unico se che non mi piace che se vado sotto scende tutto di una volta questa è un'altra cosa che non che non mi è piaciuta qui poi abbiamo la ricerca privata siti che c'è un filtro siti blocco tracciamento ovviamente mi sono scelto di metterci netflix perché lo utilizzo molto youtube e poi tv c'è quindi l'applicazione finalmente prime video now live play spotify mediaset infinity questo è il meteo disney c'è anche google assistant e alex la cosa buona è che hanno anche l'assistente vocale però la tv non ha il microfono per attivare una delle due assistenti occorrerà di acquistare un telecomando lg magic che ha la sua funzione cioè alla sua funzione di avere l'assistente alexa oppure google quindi al microfono incorporato nel telecomando abbiamo la vi faccio vedere adesso il test della velocità del wifi al wifi di quindi la generazione dual band ma è veloce però non tanto veloce perché tante volte è poco stabile quindi vedete 12 mega punto 7 a volte il wifi non è stabile quindi accendo la tv certe volte e non va a caricamento vado nell'impostazione del wifi e mi dice verifica in corso questa verifica in corso è come se non è connesso quindi ogni volta devo disabilitare il wifi e riattivare il wifi non capisco se è un problema del software della tv oppure della della vodafone abbiamo l'home dashboard che è una una piattaforma in cui noi possiamo connettere dispositivi io ti per la casa infatti anche elettrodomestici non li possiamo configurare e nello stesso momento anche gestirli via smart tv abbiamo inoltre anche l'air play di apple e questa è una cosa buona quindi una condivisione di contenuti e quant'altro dal mac o di un ipad o di un iphone alla smart tv anche l'hdmi o l'hdmi 2 se attivato quindi con un dispositivo esterno poi qualcuno comunque abbiamo l'uscita ottica pc da remoto oppure dispositivi bluetooth che a questo punto vedere io ho messo il mouse e la tastiera come si collega infatti c'è come vedete quindi avete wifi dispositivo che questa tv questo è l'ipad basta selezionare qui e abbiamo lg web os clicchiamo e automaticamente la tv c'è alla tv ha già lo stesso schermo di ipad questo è live play di di apple bello per uscire quindi facciamo così disattiviamo e la tv si rimette al suo posto la stessa cosa si fa col mac la stessa cosa si fa con iphone e la stessa identica cosa poi abbiamo la guida delle dell'elenco canali qui possiamo noi vedere ogni canale esattamente cosa c'è orario per orario quindi abbiamo infatti tutti i canali sopra noi possiamo anche cercare e poi ci sono le notifiche e l'account le impostazioni ad esempio che viene fatto in questo modo abbiamo la modalità di immagine che questo punto è standard noi abbiamo un paio di modalità queste standard queste vivace ma io vedo meglio allo standard e il meglio di tutti base cinema diventa un po più giallino il pannello sport diventa più freddo i game optimizer e poi esperto ambiente luminoso e poi c'è forse esperto ambiente scuro oppure notturno poi abbiamo l'audio quindi ho già messo su standard perché effettivamente standard si sente meglio meglio di tutti poi c'è sound con l'intelligenza artificiale ma sinceramente si sente più si sente più bombato ma con le casse che ci sono della tv taglia poi anche le le altre frequenze quindi non conviene modalità cinema clear voice pro quindi aumenta tutti gli arti e in basse frequenze non ci sono sport diventa più metallico musica musica effettivamente si sente bene come lo standard e poi game optimizer che si sente più più alto di volume ma secondo me lo standard si sente meglio uscita audio invece abbiamo sia altoparlanti per tv sia anche per l'uscita ottica quindi la possiamo connettere qui e poi anche infine anche l'uscita audio tramite bluetooth vi dico che quando ho comprato questa televisione avevo fatto tutte le possibili ricerche il software che noi era aggiornato alla versione di prima non c'era modo di farlo usare con l'uscita audio tramite bluetooth invece ora gli ultimi aggiornamenti hanno messo l'uscita audio via bluetooth e questa è una cosa veramente buona infatti se clicco infatti al momento è collegato col bluetooth posso aumentare il volume da qui tramite il telecomando e si sente quindi dal dallo speaker la tv poi a noi possiamo sia anche dispositivo mobile positivo hdmi quindi uscita esterna tramite hdmi dispositivo bluetooth più altovallante del tv quindi a questo punto tutte e due e poi uscita ottica più altoparlante per tv quindi abbiano messo nell'ultimo aggiornamento software di questa tv l'uscita audio via bluetooth e questa è una cosa bene benissimo poi abbiamo il timer quindi noi possiamo attivare o disattivare il timer della televisione magari tipo 20 minuti lo possiamo attivare tra 20 minuti si spegne la tv fino a un massimo di quattro ore poi abbiamo tutte le impostazioni possiamo modificare quello che ci piace di più ad esempio ci ho messo il timer di spegnimento come modifica infatti possiamo modificare oppure aggiungere infatti togliamo una di queste ad esempio e poi ci possiamo mettere una di queste funzionalità come vedete sono questi questi sono invece le impostazioni della smart tv quindi immagine in modalità già l'abbiamo visto rapporto d'aspetto che vi indica qui cosa cosa c'è quindi impostazioni avanzate e troviamo la luminosità che noi possiamo regolare la luminosità della tv per esempio luminosità del pannello al momento è messo al massimo 100 contrasto livelli del nero contrasti dinamici e motion e care per gli occhi degli occhi anche risparmio energetico il colore noi possiamo modificare il colore la tinta la gamma colore la chiarezza la nitidezza la super risoluzione riduzione del rumore abbiamo l'audio che quindi modalità standard che ce l'abbiamo l'abbiamo detto quindi l'uscita audio che noi da cui la possiamo modificare le impostazioni avanzate ad esempio il bilanciamento tra destra e sinistra l'equalizzatore il tipo di installazione infatti al momento è montata come montaggio a parete regolazione automatica del volume infatti questa è una di quelle funzionalità ottime perché automaticamente regola il volume quindi in quei film in cui c'è quel momento con un volume basso e poi un volume alto quindi sistema automaticamente l'audio l'audio di tv sincronizzazioni formati sound singe in generale servizio intelligenza artificiale che qui ci indica cosa c'è game optimizer impostazioni famiglia canali quindi non possiamo anche gestire sintonizzazione canale gestione poi la configurazione di dispositivi gestione tv dispositivi esterni e hdmi rete quindi wireless oppure cablata poi abbiamo quindi il sistema che già qui ci indica cosa c'è nel sistema nemmeno ad aprillo il risparmio energetico l'accessibilità con questi con queste funzionalità e basta poi abbiamo come sostegno quindi l'aggiornamento software della versione al momento la versione 0 333 60 il telecomando invece è abbastanza facile questo è lo spegnimento della tv allora le conclusioni sono che ha un bel piedistallo perché a un piedistallo come i monitor di della gamma di tutta le leggi che sono che abbastanza sottile poi abbiamo un display in ips e full hd che si vede molto bene l'assemblaggio è abbastanza buono della della tv buona qualità anche buona qualità di tutta di tutta la smart tv poi l'audio della della tv che è abbastanza accettabile poi una buona ricezione del wifi poi il fatto che ha le cornici sottili e l'avete visto come effettivamente è l'unica smart tv al mondo che ha che una 27 pollici con la cornice sottile poi l'ottima ricezione dei canali del digitale terrestre del digitale terrestre in in generale bassi consumi di energia il sistema operativo è abbastanza completo chiaro funzionale intuitivo e poi i canali gratuiti che lg channel come samsung già in passato ci sono quindi abbastanza comoda questa questa cosa e alla fine anche anche l'uscita audio tramite bluetooth cosa manca manca soltanto il jack delle cuffie di tre e mezzo il tasto info sul telecomando in dotazione e a volte il wifi si carica e se non si carica bene quindi si blocca e va in verifica in corso per il resto non ci sono non ho notato altri particolari mancanze il punto forte di questa smart tv è proprio lo schermo in primis il design della tv e poi le funzionalità smart e il sistema operativo questi sono i tre punti forti che dire una gran bellissima smart tv di piccola dimensione ma abbastanza completa come le tv da 50 pollici il prezzo della di questa smart tv parte a circa 279 euro se non erro io sinceramente l'ho presa con lo sconto con vari e con un ulteriore codice sconto presso delle presso il sito lg l'ho presa veramente a buon prezzo stiamo parlando sotto i 180 euro al prezzo che l'ho presa io è stato un grandissimo affare perché la tv è eccezionale per superiore 230 240 euro a questa dimensione non c'è di meglio quindi dovrete optare per forza di lg se prendete questo modello è ancora meglio resto vi saluto grazie per aver visto il mio video lasciate un like se vi è piaciuto se avete dubbi o chiarimenti commentate qui sotto del video grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima recensione